Benvenuti in questo nuovo video, io sono KikoZ, oggi andremo a vedere tutte le carte alternative art e special che troveremo nel quinto set di One Piece Card Game Un set che celebra il primo anniversario del gioco, vi ricordo che il gioco è uscito esattamente un anno fa E per celebrare questo avvenimento Bandai ha deciso di regalarci delle chicche davvero uniche Tra cui una carta illustrata direttamente dal maestro Echiro Oda Le carte le andremo a vedere tutte quante una per una ma prima di farvele vedere vi voglio mostrare il trailer ufficiale del quinto set di One Piece Card Game Grazie a tutti 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 Vi sono Grazie a tutti